Ultimo weekend di Repliche di Maria Stuart di Schiller, uno spettacolo che è stato proposto nel mese di maggio in determinate location, palazzi molto suggestivi del Lazio. Che cosa dire di questo adattamento con la regia di Carlo Fineschi? A dire che è uno spettacolo veramente anticonvenzionale, che è un aggettivo che si usa molto spesso a sproposito, ma in questo caso in realtà è assolutamente vero perché Carlo è in grado di abbattere la quarta parete nel vero senso della parola, perché è uno spettacolo che si svolge a 30-40 cm dal pubblico molto spesso e quindi è uno spettacolo che si fruisce non soltanto con gli occhi e con le orecchie ma anche con altro, con sensazioni fisiche reali perché trovarsi a fianco a noi proprio fisicamente, quasi nelle scene, attaccati a pezzi di scenografia, immagino che per il pubblico sia un'esperienza particolare anzi più che immaginarlo ne sono certo, perché è quello che ci dicono da sempre, quindi credo che sia questa la grande particolarità di questa messa in scena. In scena nel cast anche a Delmo Togliani, qualcosa in più sul personaggio Lord Leicester? Per chi conosce Maria Stuart, Leicester è veramente un farabutto, è un doppio giochista, non sono così nella vita, posso garantirlo. È un conte che aspira a conquistare la regina Elisabetta. Come si sa la regina Elisabetta era molto brava a promettersi per mantenere certi equilibri a tutti i regnanti d'Europa. Ovviamente il conte di Leicester non riuscirà mai a ottenere la sua mano. Contestualmente nella stessa opera il conte di Leicester cerca di salvare anche Maria Stuart, quindi all'insaputa ovviamente della regina. È un ruolo a due facce, però molto interessante, sono divertito con pazzo, anche perché Carlo Fineschi, anche Edoardo lo sa, ci lascia una libertà non indifferente. Che per noi è anche un valore aggiunto, visto che il pubblico vicino a noi vive in modo diverso l'esperienza di vivere lo spettacolo. E poter improvvisare certe volte è anche bello, la posizione del pubblico cambia ogni sera, le location cambiano, come si sa abbiamo fatto diversi posti e ogni volta cambiamo anche noi. Il personaggio che porta invece in scena, che rievoca Edoardo Ciufoletti. Io interpreto il conte di Obespin, che è un ambasciatore francese che fa parte della corte d'Inghilterra, ma che ordisce in un certo senso la trama per liberare Maria Stuart. Mette in mezzo non soltanto la propria influenza personale, ma anche quella del suo paese, ma gli va male in un certo senso. Con l'incontro di Leicester ci sono un paio di momenti di incontro su questo testo, che è due congiure che sembrano scontrarsi a un certo punto. Alla fine non mi va più tanto bene e quindi riprendo la via della Francia, questo si può anticipare, non è uno spoiler particolarmente gravoso sullo spettacolo. Tento di fare il mio, ma poi mi tocca tornare a casa. Si chiude in un posto magnifico, ne avete girati tanti, siete stati a Casperia, a Castelnuovo di Porto e si chiude in un'altra bellissima location. Che cosa dire in più rispetto all'appuntamento? Che è una location incredibile, Castello Brancaccio a San Gregorio da Sassola, è il primo vero castello in cui noi ci troviamo a portare la vicenda, quindi è perfettamente in linea con quello che noi andiamo a raccontare. Nell'altro caso sono dimore storiche e la fortezza a Castelnuovo di Porto, ma non erano così complete dal punto di vista estetico e scenografico. C'è un ponte levatoio per dire, c'è il fossato, tutti gli interni con soffetto a cassettoni, è veramente un posto magnifico e ideale per questo tipo di messa in scena. C'è un ponte di messa in scena.